Emanuele Cavallucci, campione italiano di Pugilato, con la prestigiosa cintura. Emanuele, lo possiamo dire, finalmente è ufficiale, difenderà il titolo. Sì, finalmente è ufficiale, il 4 ottobre, il giorno del mio compleanno, difenderò il titolo contro l'Origa, a Crotone, in casa sua, in Calabria. Chiaramente noi speriamo di poterti fare degli auguri speciali per il compleanno, però ti chiediamo, intanto, manca ancora molto, c'è tutta un'estate, quindi tempo per prepararti c'è. Come sta oggi Emanuele Cavallucci? Oggi Emanuele Cavallucci sta cominciando la preparazione. Ovviamente nel complesso sto sempre bene, diciamo. Però l'ho cominciato giusto due settimane fa e in vista del 4 ottobre starò in superforma. Che avversario è? Allora, l'Origa è il più esperto avversario che ho incontrato finora nella mia carriera, ha all'attivo circa 35 match da professionista, solo 6 o 7 sconfitte, non mi ricordo bene. È stato due volte campione d'Italia, ha vinto l'Europeo e ha vinto un mondiale latino. Ha battuto grandi campioni, ha combattuto contro Chavez Junior, per gli intenditori di Pugilato sanno a chi mi riferisco, e quindi sarà veramente dura. Ovviamente mi preparerò al meglio, come so fare, per andare e riportare questa a Chieti. Ecco, questa è la cintura di campione italiano. Insomma, ti dona molto, Emanuele. Grazie, grazie mille. Come tu sai, mi hai seguito e come tutti mi hanno seguito, l'ho guadagnata qui a casa e spero di riportarcela. Allora, facciamo una cosa per chiudere, Emanuele. Dando l'appuntamento a ottobre, quindi c'è molto tempo, diciamo intanto che ci vediamo sabato al prestigioso premio Marciano, dove sarai uno dei premiati per i tuoi successi. Sì, sabato sera a Ripateatina sarò premiato sul palco come Pugile dell'anno, premio Rochi Marciano, ringrazio tutto lo staff che ha deciso di premiare me e tutta l'organizzazione dell'invito. Sei uno degli sportivi più importanti della nostra regione, chiudiamo così, Danilo Cinquino alla telecamera, gli facciamo inquadrare Danilo in primo piano, mettiamola in orizzontale. La cintura di campione italiano che difenderà il prossimo 4 ottobre a Crotone il Pugile abruzzese Emanuele Cavallucci. Emanuele, per farti l'in bocca al lupo c'è tempo, però ti diciamo buona estate di preparazione. Grazie, grazie mille a tutti.